Verranno smistati temporaneamente tra Catania e Messina i 47 migranti a bordo della Sea-Watch 3 dopo diversi giorni passati a bordo della nave in attesa che qualcuno decidesse di accoglierli. Oggi a Messina ha previsto l'arrivo di 30 migranti, tutti maggiorenni, che verranno trasportati all'hotspot di Bisconta e l'ex caserma Gasparro. I quasi 50 migranti rintracciati nel Mar Mediterraneo circa una settimana fa dal Ministero degli Interni sono rimasti fermi in mare in attesa che il Governo stringesse accordi con Stati come Francia e Germania per la loro accoglienza. Questa mattina intorno alle 11 la Sea-Watch, salpata a largo di Siracusa, ha attraccato a Catania al modo di Levante con a bordo i 47 migranti, compresi 15 minorenni non accompagnati. Terminate le manovre di attacco, i migranti a bordo hanno festeggiato la fine di un incubo e l'arrivo finalmente in porto. Abbracciandosi tra di loro e abbracciando anche i componenti dell'equipaggio della nave della ONG tedesca, battente e bandiera olandese. Dopo le formalità di rito e il trasferimento degli adulti a Messina, in attesa del trasferimento in altri sei paesi dell'Unione Europea, così come stabilito dal Governo, i 15 migranti minori non accompagnati, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, saranno invece sistemati in centri di accoglienza per minori.